Sottotitoli Lo dice Elgo Rossella. Guardate quanto fregge, ma fa la domanda. Massimo attenzione, dentro l'olto, adesso si piloti. E' saluto. Il piloti da frontamina, parola del passaggio. Il piloti da frontamina, parola del passaggio. Anche il riporre, no? Il piloti da frontamina significa una partizione di scoppi. Molto ma buono per le fotografie. Inizia una scena della sinistra. Ricroci senza il perro costra. E ora, sfuga, sulla destra e battaglioni. L'esperienza, esperienza. Tutto viene dalle altre prestazioni. Un po' come la Formula 1, che fornisce ai costruttori a move di stisi le capacità di tramata, di... . ... ... . . Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.